Incontriamo il sindaco di Pisogne Federico Laini per fare con lui il punto su diversi interventi che l'amministrazione sta portando avanti e anche su alcuni progetti. Partirei da due interventi cui i lavori sono partiti proprio in questi giorni, uno è quello dell'area skate, che cosa prevede questo progetto. Il progetto dell'area skate, i lavori sono proprio iniziate in questa settimana, è un progetto nato insieme ad alcuni ragazzi del nostro paese, nel senso che c'è una compagnia di ragazzi che praticano lo sport e lo skateboard e lo utilizzavano in paese, in vari luoghi del paese. Questo però rappresentava un po' un pericolo per loro perché comunque non erano attrezzata e un pericolo anche per gli altri cittadini perché comunque prendi determinate velocità, fai certi trip, mi pare, chiamino loro, non sono un esperto e avevamo la voglia di pensare a qualcosa anche per loro perché in realtà spesso si fanno progetti per adulti, per bambini, quella fascia lì degli adolescenti, diciamo così, è un po' una fascia che spesso non si riesce ad intercettare. Abbiamo aperto un dialogo con loro, abbiamo individuato quest'area Grattacasolo in cui c'era già un vecchio skatepark che però era fatto su una pavimentazione per un utilizzo normale, diciamo, non un cemento adatto ed erano dei giochi, delle strutture in acciaio su cui potevano fare questi giochi. Invece abbiamo presentato un progetto nell'ambito di un bando di Regione Lombardia, abbiamo ottenuto un importante finanziamento di 80 mila euro e per cui adesso riusciremo a realizzare un'area skate all'avanguardia, diciamo, al passo con i tempi, che potrà anche fungere un po' da punto di ritrovo per questi ragazzi, tra l'altro si trova vicino al campo da paddo, al campo da beach volley, al chiosco che i gestori dei due campi hanno realizzato, per cui è tutta un'area dedicata allo sport e che abbellisce un po' anche questa zona di Grattacasolo che si trova proprio davanti alle nostre scuole. Nel giro di un paio di mesi i lavori dovrebbero essere pronti, poi in inverno è uno sport che si pratico ovviamente meno e quindi sicuramente dalla primavera prossima vedremo il parco in piena funzione. Altri interventi partiti proprio da poco sono quelli che riguardano la riqualificazione del centro storico che si estendono però fino al parco Damioli. Esatto, anche in quel caso i lavori partiti da giorni, anche in quel caso finanziati grazie alla partecipazione ad un bando di Regione Lombardia, il bando Borghi Storici, l'obiettivo del bando era coniugare i centri storici e le aree verdi urbane, per cui abbiamo predisposto un progetto che prevede essere il collegamento tra il nostro centro storico e il parco Damioli. Il progetto prevede la sostituzione di quelle vie che avevano ancora una pavimentata d'asfalto diciamo, con una pavimentazione invece di pregio che sia lineare rispetto a tutta l'altra pavimentazione del centro storico, quindi alcune vie soprattutto in zona Torazzo e in zona Collaela e poi la via che porta dalla piazza all'imbocco del parco Damioli, quindi la gente che sarà in piazza, che visiterà la nostra piazza, sarà poi portata ad entrare al parco Damioli e questi lavori sono già partiti e adesso stanno intervenendo Acqua e Boricciana e Orgasmo e tendono a rifare i sottoservizi. E poi nei prossimi mesi partiranno i lavori anche al parco Damioli che prevederanno la demolizione e la sostituzione della vecchia tensostruttura, con una nuova tensostruttura che sia anche isolata dal punto di vista acustico per diminuire anche l'impatto nei confronti dei vicini di casa, visto che poi l'obiettivo è utilizzare al meglio il nostro parco, utilizzarlo il più possibile, abbiamo pensato anche ad una struttura adatta che avrà anche delle quinte, sarà anche molto ben inserita nel contesto, visto che è stato anche frutto di un lavoro di confronto con la soprintendenza e quindi anche in questo caso nella prossima primavera, o meglio le vie del centro storico sicuramente anche prima però il lavoro complessivo, quindi le vie del centro storico e il parco Damioli nella prossima primavera saranno fruibili veramente al meglio. Stiamo nelle vicinanze del parco Damioli per un intervento che invece deve ancora partire, partirà tra breve, è quello che riguarda la palestra, che cosa verrà a fare? La palestra, cioè la riqualificazione del pala romele, era per noi un'opera strategica sin dall'inizio, tant'è che dopo pochi mesi delle nostre elezioni abbiamo incaricato uno studio perché facesse uno studio di fattibilità che ci ha consentito poi di ottenere un importante finanziamento ministeriale di più di 300 mila euro per la progettazione della direzione dei lavori e poi, susseguentemente, un finanziamento di 2 milioni di euro di Regione Lombardia per la realizzazione dei lavori. Quindi è un lavoro che partirà a breve, l'appalto è già stato affidato, sono risultati affidatari di due aziende del territorio, l'Albertagne di Edolo e la Canobie Group di Boario e che stanno predisponendo tutta la documentazione necessaria per poter partire con il cantiere. Quindi è un lavoro che vede adesso i suoi frutti ma che in realtà, soprattutto a livello di progettazione, parte da lontano. L'esigenza era dovuta al fatto che l'attuale palestra è particolarmente vecchia e tra l'altro è realizzata con una struttura tiranti che avevano, praticamente questi tiranti che sostenevano la struttura sono arrivati anche a fine corsa, per cui un intervento strutturale era assolutamente fondamentale. Il tema era riqualificare la palestra o comunque realizzare un nuovo palazzetto nello stesso sedime dell'attuale, oppure spostare la palestra fuori dal paese, fuori dal centro e realizzarla lì. Noi sin da subito abbiamo deciso di realizzarla qua perché quella palestra è un punto fondamentale, è utilizzata anche dalle nostre scuole, dalle nostre scuole medie e dal turistico che è l'istituto superiore che ha sito a bisogno. Quindi per noi era fondamentale che restasse lì. Lo studio di fattibilità che avevamo commissionato aveva due alternative, ovvero sia la riqualificazione dell'esistente oppure la demolizione e la costruzione ex novo. Alla fine, fatti le dovute valutazioni anche in ordine ai costi, ai benefici e ai rischi, si è deciso che la strada migliore fosse quella di demolire l'esistente di costruire nuovo. Quindi verrà realizzato un nuovo palazzetto che avrà 400 posti a sedere quindi in grado di accogliere partiti ufficiali fino alla serie B maschile di pallacanestro per cui tutte le categorie inferiori, tutte le categorie femminile così come la pallavolo. Il cronoprogramma prevede opere per 18 mesi, abbiamo però incontrato insieme al direttore lavori la ditta incaricata, la quale ci ha riferito che in realtà se tutto va bene è difficile immaginarlo in questo momento perché ci sono tutta una serie di incognite che non dipendono chiaramente dal comune né dalle ditte che hanno vinto l'appalto, però in una situazione diciamo ottimale, in una situazione più che ottimale normale, in realtà i lavori possono durare anche molto meno di 18 mesi. Quindi sicuramente a breve partiranno e speriamo che poi il risultato, anzi siamo certi visto le competenze che ci sono in gioco che poi sicuramente il risultato accontenterà tutti. Abbiamo dovuto gestire in qualche modo il fatto che appunto per questi mesi la palestra non potrà essere utilizzata, per cui con le scuole abbiamo pensato nella stagione bella che i ragazzi potessero fare attività fisica anche all'aperto che è anche stimolante per loro, quindi adesso abbiamo organizzato un pulmino che li porta al palese di Grattacasolo, ma fino a quando è stato possibile e quando sarà possibile questa primavera svolgeranno l'attività all'aperto. Il turistico si è organizzato anche loro con un trasporto che porterà gli studenti al paleseo e le varie società sportive da cui devo dire abbiamo trovato davvero la massima collaborazione si sono distribuite sulla palestra delle scuole elementari, sul paleseo, in altre nostre strutture per coprire diciamo tutte le esigenze e riuscire a non avere nessuno che occupasse il pala romele. Sicuramente sarà un importante risultato anche dal punto di vista ambientale, diciamo così, sia paesaggistico perché ovviamente quella palestra avrà un impatto molto inferiore rispetto a questa, sarà ben inserita nel contesto e sarà particolarmente bella diciamo anche da vedere. E poi anche dal punto di vista diciamo della dispersione termica perché andremo a realizzare un palazzetto quasi a nzeb, cioè quasi a zero emissioni e tra l'altro nell'offerta che la Canobio Group ha presentato al Comune di Pisani ha offerto quasi il raddoppio dei pannelli fotovoltaici che verranno installati sopra il tetto. Quindi veramente anche da quel punto di vista un importante risultato tant'è che il GSE che è un ente che riconosce dei contributi in funzione dell'abbattimento dei consumi energetici ha previsto per questo intervento un finanziamento pari a circa 800 mila euro. Quindi sarà, ci auguriamo, un ottimo risultato davvero sotto tutti i punti di vista e non vediamo allora soprattutto che i ragazzi delle scuole ma anche le società perché veramente svolgono un ruolo davvero importante e possono ricominciare ad utilizzarlo. Sabato 12 novembre tra l'altro l'abbiamo deciso in questi giorni quindi non è nemmeno ancora pubblicizzato però è certo quindi se ne può parlare. Abbiamo pensato di organizzare una serata conclusiva di festa per salutare il Palaro Mele che davvero ha rappresentato tanto per noi pisognesi perché è veramente un simbolo, è il posto in cui sono cresciute generazioni di sportivi, il posto in cui tantissima gente di pisogni, benefattori chiamole così, hanno dato veramente il meglio di loro all'interno delle varie società che si sono susseguite quindi ci sembrava doveroso anche salutarlo per poi presentare il nuovo progetto che a breve vedremo realizzarsi. Stiamo parlando di un investimento complessivo di? Un investimento complessivo di più di 5 milioni di euro, circa 5 milioni e 400 mila euro però come dicevo 2 milioni finanziati da Regione Lombardia, 320 mila euro dal Ministero per la Progettazione, 800 mila euro col conto termico, in parte un avanzo di bilancio poi accenderemo un mutuo trentennale. Anche per l'accensione del mutuo trentennale abbiamo partecipato ad un bando e siamo riusciti ad ottenere i contributi sull'abbattimento della quota interessi per cui avremo un mutuo trentennale ma che avrà necessità di essere coperto solo per la parte capitale mentre la parte interessi sarà coperta da questo mutuo a cui abbiamo partecipato e che abbiamo vinto. Un altro intervento che sta per partire è di segno però diverso, stiamo parlando di interventi sul rischio idrogeologico e quello che riguarda il trobiolo. Esatto, anche qui a giorni, questo penso anche prima rispetto alla palestra nel senso che abbiamo affidato ancora qualche settimana fa, partiranno anche i lavori sul trobiolo. È un lavoro di messa in sicurezza per cui abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 800 mila euro da parte di Regione Lombardia. È stato frutto anche di alcuni mesi di lavoro successivi all'ottenimento del finanziamento perché i lavori interessavano anche aree di proprietà private e non solo aree pubbliche per cui abbiamo dovuto anche portare avanti una trattativa con questi privati affinché poi si riuscesse ad ottenere un buon risultato. Il progetto è stato anche in parte rivisto sotto alcuni elementi perché lo studio di fattibilità era anche datato rispetto a quando abbiamo preso il finanziamento quindi è stato in parte aggiornato. Anche in questo caso la ditta appaltatrice della Valle Camonica e per noi questo è sempre un elemento importante perché riuscire a lavorare con aziende del territorio ci consente anche una comunicazione migliore, un fatto di riuscire a dialogare in maniera più trasparente e quindi anche in questo caso a breve partiranno e il risultato rispetto ai progetti di cui abbiamo parlato sinora sarà meno di impatto visivo perché è un risultato che agli occhi della popolazione almeno che uno non vada a percorrere l'esponente dell'altro biolo magari non si vedrà nemmeno però dal punto di vista della sicurezza è un risultato sicuramente fondamentale e adesso stiamo lavorando anche con il nostro ossessore all'ambiente Nicola Musati per ottenere poi da Regione Lombardia altri fondi per intervenire su altri torrenti che comunque hanno necessità certamente il trobiolo era quello che allo stato di fatto era il più era quello su cui c'era più urgenza di intervento diciamo parliamo adesso di un altro intervento di riqualificazione che riguarda il quartiere Bettoni sì questo è un intervento che a me piace anche chiamare di rigenerazione urbana perché è un termine che viene spesso utilizzato e credo che in questo caso calzi perfettamente siamo partiti con l'intervento su un immobile che ospita quattro case comunali l'abbiamo riqualificato energeticamente esternamente e su due appartamenti in particolare siamo intervenuti anche all'interno questo tra l'altro ci consente di affidare poi alle persone di bisogno che hanno necessità questi quattro appartamenti perché alcuni di essi prima non erano nemmeno agibili quindi non affidabili quindi questo ci ha permesso di intervenire sull'edificio di riqualificare quella zona ma anche di venire incontro alle esigenze di abitazione del nostro territorio abbiamo poi partecipato sempre ad un bando di regione lombardia abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione di euro per proseguire in questa opera di rigenerazione urbana questo secondo intervento per il quale fuori in questi giorni una gara d'appalto per cui non sappiamo ancora quando poi fisicamente partirà e non sappiamo nemmeno chi parteciperà alla gara prevede la riqualificazione di due immobili che ospitano tre case comunali la riqualificazione in questo caso intesa demolizione ricostruzione ex novo e quindi tra l'altro adiacenti nel senso c'è l'immobile che abbiamo riqualificato in precedenza c'è una casa privata e poi c'è questo edificio e dinanzi a questi due edifici su cui siamo intervenuti c'è un parco che adesso ospita un vecchio campo da basket che verrà completamente riqualificato quindi una nuova area verde e vedrà la realizzazione di una pista di pattinaggio su rotelle che è una cosa che ha bisogno ancora mancava campetti da basket ce ne sono già due tra l'altro uno la pieve riqualificato mi pare circa cinque anni fa molto molto utilizzato perché tra l'altro lì c'è anche il comitato pieve che gestisce tutta l'area in maniera eccellente e quindi qua abbiamo pensato di rivolgersi ad un nuovo pubblico per ampliare diciamo anche l'offerta nel modo dello sport che il comune potesse offrire però quello che mi preme di più su questo intervento è dire che lì avevamo un'area pubblica passatemi il termine desolata e due edifici veramente veramente messi male anche dal punto di vista strutturale architettonico alla fine di tutti questi interventi avremo un intero quartiere quasi faccio per dire completamente riqualificato per me questo è motivo di orgoglio anche perché lì ci sono tanti privati che nel giro di qualche anno hanno riqualificato le abitazioni e quindi anche per rispetto nei confronti dei nostri cittadini che sono intervenuti sulle proprie case era importante che anche il comune facesse la sua parte ci sono alcune case della zona che necessitano ancora di intervento e quindi noi d'altra parte ci auguriamo che il fatto che ora sia il comune di intervenire possa fare da volando perché anche i privati decidono di mettere le mano alle proprie abitazioni sicuramente anche in questo caso vedremo un quartiere nuovo rinnovato e tra l'altro un quartiere anche molto vicino al centro storico a 200 o 300 metri dal lago molto di passaggio perché lì c'è l'area d'Axena vicino c'è l'Ido una zona molto molto trafficata e sarà completamente rinnovata